quando così tanti media riportano le stesse storie propagano la stessa narrazione si affidano le stesse fonti usano anche le stesse frasi pensateci ci sono centinaia di nuove storie che vengono riportate ogni giorno ed un numero infinito di riportarle quando sono tutti sulla stessa pagina può essere solo il risultato di una campagna organizzata la qualità di giornalismo che cbs 4 news produce Sì, ma... Grazie a tutti. Il vostro problema, c'è una crescente pressione anti-intellettuale in questa nazione, se molti, forse potrebbe essere l'inizio della fine della nostra formata democrazia.